Ciao a tutti, oggi parliamo dell'acqua corrente nell'antica Roma. I romani furono pionieri nell'ingegneria degli acquedotti, portando acqua fresca dalle montagne fino alle loro città. Questa rete di acquedotti non solo forniva acqua per bere e bagni pubblici, ma alimentava anche magnifiche fontane e terme. Un incredibile esempio di come l'antica Roma abbia unito utilità e bellezza, influenzando ancora oggi i nostri sistemi idrici moderni. Un salto nella storia dell'ingegneria romana. Restate con me per altre scoperte affascinanti.